Ciao a tutti, sono Pierluigi Villa, lo specialista del Power Supply Inconsystem. Vi do il benvenuto nel menu del Power Supply. Il menu del giorno è EOS Power VLC 550. VLC 550, un piatto speziato ad altra qualità. È un prodotto che ha delle caratteristiche e degli ingredienti veramente particolari. Le dimensioni. È un alimentatore da 3 x 5 pollici. Il dato più importante è l'altezza. Solo 38 mm. Il che mi fa stare questo alimentatore in un rack da 1 unità. Fondamentale. È di facile installazione. Attraverso 4 fori lo posso fissare direttamente sulla mia meccanica. Altra caratteristica. Trattamento con formal coating. Alta densità di potenza. È un alimentatore da 550 watt. Ha ventilazione forzata. Altrimenti, a convenzione naturale, 350 watt. Necessita una ventilazione esterna. È un alimentatore autosufficiente. Ho un connettore con un'uscita 12 volt. Mi serve per alimentare una ventolina esterna. Con un minimo di flusso d'aria posso far utilizzare al meglio il mio alimentatore ad alta densità di potenza. Che tensioni disponibili ho in uscita? Basta consultare i due cataloghi, dalla versione industriale o la versione medicale. Ma se mi necessita di una tensione particolare, con la Modify è possibile avere un alimentatore con la tua tensione desiderata. In definitiva, perché scegliere VLC 550? Dimensioni, alta densità di potenza, efficienza, possibilità di modificare le tensioni in uscita. La scelta vincente per la tua soluzione di alimentazione. Per maggiori informazioni ci puoi trovare qui. Quindi, buona alimentazione a tutti e arrivederci al prossimo video.